Musica Quest'oggi siamo a Cesio Maggiore nell'ufficio del sindaco Carlo Zanella che è anche presidente dell'Unione Montana Feltrina da qualche mese. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Abbiamo detto, presidente da qualche mese, avrete già fatto dei ragionamenti sulla squadra di governo, diciamo così, sulle varie deleghe. Sì, abbiamo fatto quella che è la procedura naturalmente di nomina della Giunta, degli assessori e quindi sono stati scelti su indicazione delle aree territoriali dell'Unione Montana Feltrina per l'area ovest, quindi i comuni del Cismon, per così dire, il sindaco di Arsie, Luca Strapazzon, al quale sono state affidate le deleghe legate molto ai servizi che l'Unione Montana offre, quindi il personale, il servizio tributi, la protezione civile, la stazione unica paltante. E per quanto riguarda invece l'area centrale dell'Unione Montana è stato indicato e quindi nominato il sindaco di Seren de Grappa, Dario Scopel, ai quali sono state confermate le deleghe legate più al territorio, quindi l'agricoltura, il turismo e il dissesto idrogeologico. Abbiamo poi per l'area sud il consigliere comunale Claudio D'Azzotto di Alano di Piave, al quale sono state date, è stata affidata una delega senza diritto di voto, essendo consigliere comunale, però molto importante, che è quella di studio e sostegno per quanto riguarda la Feltrina Servizi, che è l'azienda completamente partecipata dall'Unione Montana Feltrina, che cede personale per svolgere i servizi per i comuni, quindi il personale che lavora all'interno dell'Unione Montana, la maggior parte è della Feltrina Servizi, che è questa società. È una società che per la legge Madia bisogna studiare il sistema di chiusura, per così dire, e quindi inglobare il personale all'interno del servizio pubblico, all'interno dei comuni. Non possiamo permettersi, come Unione Montana sicuramente, di perdere tutto questo personale che è tratto, personale formato, e che ha già conoscenza e capacità di problem solving, per così dire, rischiando di mettere a repentaglio quello che è anche la vita dei comuni, perché ricordiamo che l'Unione Montana è indispensabile per i piccoli comuni come ente di sostegno e di supporto e di servizio. Ma il personale dell'Unione Montana Feltrina o di Feltrina Servizi viene, per così dire, mandato in missione anche in altre unioni montane, perché so che tra le unioni montane a volte ci sono degli scambi, diciamo così. No, noi come Unione Montana Feltrina facciamo servizi anche per altre unioni montane. L'ufficio personale dell'Unione Montana Feltrina fa servizio di gestione del personale per comuni anche al di fuori del nostro territorio provinciale. Ha un qualcosa come 80 comuni da servire, quindi l'Unione Montana Feltrina diventa un pochettino quello che è il fulcro su certi servizi a livello provinciale e non solo Feltrino. Questa diventa anche un po' una risposta magari a chi dubita un po' dell'effettiva utilità delle unioni montane. Io direi che le unioni montane sono un ente indispensabile. pensiamo a certi servizi che i comuni non riuscirebbero a sostenere come spese di personale. L'ufficio commercio, che è quello che dà supporto alle attività, ma anche a tutte le manifestazioni che vengono organizzate nel nostro territorio, viene fatto per tutti i comuni dell'Unione Montana e non solo e sarebbe impossibile riuscire a riprendersi in carico, lo dico anche dal sindaco di un piccolo comune, riprendersi in carico il personale per gestire questo tipo di servizi. Oltre che avere ormai storicamente una reputazione naturalmente molto positiva anche fuori dell'Unione Montana Feltrina, di tutti i nostri uffici dell'Unione stessa. anche perché, va detto, non è proprio semplicissimo trovare figure specializzate o meno nei comuni, cioè si lamentano tutti della scarsità di figure o insomma delle poche persone magari che si presentano quando c'è una posizione aperta. Ci sono sicuramente servizi che saranno sempre più in difficoltà. Mi riferisco ad esempio al servizio tecnico dei comuni dove ci vogliono persone molto preparate da un lato ma che purtroppo hanno una caratteristica di formazione che li porta più al lavoro privato, chiamiamolo così, piuttosto che al lavoro pubblico. Anche perché riconosciamolo che dal punto di vista economico è molto più remunerativo il lavoro nella parte privata piuttosto che negli enti locali. Voi come Unione Montana state facendo naturalmente dei ragionamenti interni, negli equilibri, nei rapporti, nelle strategie tra comuni dell'Unione Montana, però sempre con un occhio anche alle realtà con termini? Secondo me l'Unione Montana deve essere anche un pochettino il rappresentante di un territorio a di fuori dei suoi confini. Per questo abbiamo già iniziato e ripreso i colloqui e i rapporti con i comuni del Trentino, con noi confinanti, quindi con il Primero in particolare, su alcuni argomenti strategici fondamentali. Uno, l'ospedale di Feltre. Due, la ferrovia e il collegamento ferroviario tra Feltre e Primolano. E io non mi stancherò mai di dirlo che per lo sviluppo turistico della Valle Belluna è un collegamento strategico fondamentale e del quale non si potrà fare a meno nei prossimi anni. e il terzo argomento è comunque il parco del quale tanti comuni dell'Unione Montana fanno parte e che confinano con un Trentino che ha a sua volta un parco che distanzia come confini di qualche centinaio di metri. Quindi ci sono delle strategie da portare avanti anche in questo settore. L'altro ente con il quale dobbiamo collaborare e riprendere i contatti e lo abbiamo già iniziato a fare è il Comune di Feltre. Il Comune più importante sicuramente è il Feltrino nonché il secondo come popolazione della provincia di Belluno strutturato in maniera diversa rispetto all'Unione Montana con il quale dobbiamo sicuramente collaborare per lo scambio di servizi e anche forse di personale. Abbiamo già iniziato a farlo per quanto riguarda il servizio tributi che è a sede in Unione Montana per quanto riguarda tutti i comuni i 12 comuni dell'Unione Montana Feltrina e il Comune di Feltre ci ha prestato la posizione organizzativa quindi responsabile che viene a tempo parziale in Unione Montana. La cosa che abbiamo fatto noi è invece la collaborazione con il Comune di Feltre anche per quanto riguarda l'ufficio commercio che è stato trasferito presso i palazzetti cingolani in centro Feltre dove noi come Unione Montana mettiamo il nostro responsabile che fa anche il servizio di responsabile dell'ufficio commercio per il Comune di Feltre. La scelta logistica adesso ne stiamo discutendo con la nuova amministrazione di Feltre perché ci stiamo rendendo conto che ha creato qualche problema e qualche disservizio ai fruitori dell'ufficio stesso che sono in particolare associazioni di volontariato e che quindi si trovano veramente a disagio a dover salire in cittadella per poter usufruire di questo servizio. Stiamo facendo delle valutazioni e vedremo il proseguio della questione. Questa naturalmente è uno dei luoghi popolati dall'Unione Montana poi c'è la sede principale, sempre a Feltre. Certo. Vi basta? Sulla sede di Feltre come spazi ci basta. Abbiamo fatto una valutazione anche poche settimane fa. La questione molto importante sarebbe riuscire a trovare le risorse economiche per la riqualificazione e la messa in sicurezza anche dal punto di vista sismico della struttura. La cosa più importante da fare però sarebbe quella proprio in ottica di risparmio energetico la riqualificazione e la sostenibilità della struttura. Ripeto, la questione principale sarebbe trovare le risorse. C'è già un progetto, uno studio di fattibilità di qualche anno fa che sarebbe leggermente forse a rivedere però è un primo passo, un primo punto da cui partire per ristrutturare quella che è la sede storica dell'Unione Montana-Fetrina che a nostro parere della giunta attuale ha sicuramente oltre a una parte storica come sede dove è? In via Carlo Rizzarda ma anche dal punto di vista logistico e strategico quindi si fa veramente fatica a rinunciare a una sede in una posizione del genere. Immagino che il quadro economico sia importante per intervenire. Sì, ci avviciniamo ai 2 milioni di euro, sì. Quindi è una base economica molto importante da cui partire però sono convinto che essendoci 12 sindaci comunque che ragionano all'interno dell'Unione Montana una soluzione la si troverà anche a medio breve termine. Qualche tempo fa come sindaci Unione Montana insomma c'è tutta una stratificazione con il GAL anche, vi siete trovati al Lago di Santa Croce per dare avvio a carte scoperte a un processo che è quello dell'unione tra IPA e GAL l'Unione organizzativa e strategica? Sì, il mio pensiero è che bisognerà iniziare un ragionamento di fondo su un territorio più vasto di quelle che sono le unioni montane che corrisponde a quello che è il territorio del GAL Dolomiti Prealpi o l'IPA di cui si stava discutendo. Forse è il momento storico anche per iniziare veramente un ragionamento approfondito. Io quel giorno l'ho detto bisogna iniziare a studiare un master plan di vallata indicando precisamente dove si vuole andare e cosa si vuole fare. Alcuni territori della nostra provincia hanno una indicazione molto precisa l'indicazione e lo sviluppo turistico. Noi non possiamo permetterci di pensare che lo sviluppo della Val Belluna sia solo turistico. Abbiamo territori talmente diversi e differenti che hanno necessità sicuramente di un sviluppo variegato e diversificato. Passiamo da un territorio di fondo valle con i comuni quelli più grandi e quelli più industrializzati Sedico, Santa Giustina Borgova e Belluna sicuramente e territori invece che sono territori proprio di montagna mi riferisco a tante zone dell'Empago ma anche tante zone del Feltrino lo stesso Cesio Maggiore ha il capoluogo a 500 metri di quota poi ci sono Sovramonte, Lamont che sicuramente hanno una geomorfologia ancora differente per i quali si devono studiare strategie e sviluppi completamente diversi. Quindi forse questo master plan, questo studio chiamiamolo di fattibilità di sviluppo della Val Belluna è arrivato il momento per riuscire a stenderlo. Dobbiamo stenderlo come area IPA o area GAL con il coinvolgimento di tutti i comuni come è stato detto quel giorno forse veramente è l'ora che tutti i comuni entrino in questa assemblea per studiare uno sviluppo davvero strategico di tutto quello che è la Vallata a Val Belluna. Forse diventa anche un'occasione di come dire agire su tempistiche e anche possibilità di finanziamento magari per bandi nazionali perché ne abbiamo visti insomma anche di importanti con parametri molto stringenti poco tempo per presentare il progetto e poi diventa una sorta di lotteria a volte va detto. Sì, l'abbiamo vissuto in tanti territori del Feltrino secondo me ma anche in tutta la Val Belluna. Anche i fondi PNRR purtroppo legati ai piccoli comuni rendevano veramente difficoltosa solo la presentazione della domanda e poi le domande erano talmente tante perché è chiaro che tutti hanno necessità di fare qualcosa all'interno del loro comune e lo si vede, basta girare per il nostro territorio che diventa veramente una lotteria. Non essere tra i vincitori crea anche molta delusione perché le aspettative erano davvero tante bisogna avere probabilmente un ente che gestisca e sappia dare indicazioni ai piccoli enti locali di come fare a gestire queste fonti di finanziamento e dalla partenza che è quindi la presentazione della domanda. Il GAL lo sta facendo, ha una capacità ormai che è riconosciuta da tutti l'IPA forse potrebbe essere lo sviluppo ulteriore. Grazie quindi per averci accolti. Grazie a voi della presenza, grazie. Ci vediamo quindi alla prossima tappa. Grazie a tutti.